L'Italia si aspetta che la Russia faccia chiarezza sulla morte di Alexei Navalny, una questione che va oltre la figura dell'oppositore del Cremlino, perché inerisce ai valori irrinunciabili di libertà e democrazia. E questo è il messaggio che il governo ha comunicato direttamente all'ambasciatore Alexei Paramanov, convocandolo alla Farnesina. Una linea netta condivisa con i partner europei, che Mosca tuttavia ha respinto con durezza. Quello di Navalny è un affare interno, su cui si stanno conducendo le indagini necessarie. È la posizione espressa dall'ambasciata russa che ha rinnovato le accuse agli occidentali di fare valutazioni politicamente faziose per strumentalizzare il caso. Paramanov è stato ricevuto nel pomeriggio dal direttore degli affari politici della Farnesina, Pasquale Ferrara, su indicazione del ministro Antonio Tajani. Al diplomatico russo è stata esposta l'aspettativa dell'Italia che sia fatta piena chiarezza sulle circostanze della scomparsa di Navalny. Ha riferito in una nota il ministero degli esteri al termine del colloquio, ricordando la condanna alla detenzione dell'oppositore in condizioni durissime per la sua attività politica e per la sua lotta contro la corruzione. Il tema che pone Roma è ancora più ampio. L'Italia, che difende i valori rinunciabili di libertà e democrazia, continuerà a invitare la federazione russa a porre fine all'inaccettabile persecuzione del dissenso politico e a garantire il diritto alla piena libertà di espressione, senza alcuna limitazione di diritti civili e politici, ha sottolineato la Farnesina. Grazie. Grazie a tutti.